Sto meglio, ho avuto un po' problemi con l'abduttore, ma ora è molto molto meglio e io sono contento e felice per essere con la squadra a campo. Sì, ora abbiamo quattro giorni per la partita contro il Cremonese, dobbiamo fare un lavoro ogni giorno per essere pronti per la partita sabato, certo è una partita molto importante, per noi dobbiamo fare una grande partita. Sì, è vero, abbiamo cinque partite, ora giochiamo contro il Cremonese sabato, questa è la prima partita e questo è più importante per noi, dobbiamo fare il risultato per essere anche Serie B la prossima l'anno. Sì, è sempre molto importante con i tifosi, sempre all'uscita c'è molti tifosi, è molto importante per noi.